amici dell'esperto risponde buonasera bentrovati ben ritrovati sempre qui con voi su sky canale 821 per insieme a voi parlare di che cosa stasera andiamo a trattare un pochettino in maniera un po' più specifica quegli incentivi all'occupazione per over 50 per i lavoratori disabili per i beneficiari di naspi e anche per chi usufruisce il reddito di cittadinanza lavoratori over 50 l'abbiamo parlato anche nella precedente puntata comunque lo andiamo un attimino a rivedere brevemente il datore di lavoro che assume un contratto di lavoro dipendente anche a tempo determinato e in somministrazione lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi questo è importantissimo quindi da almeno 13 mesi è una condizione importante hanno diritto alla riduzione dei contributi pari al 50 per cento per la durata di 12 mesi in caso di tempo determinato e invece per 18 mesi in caso di trasformazione o di contratto a tempo indeterminato l'incentivo che spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato fino al limite comunque complessivo di 12 mesi passiamo a lavoratori in naspi i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di naspi ovvero la cosiddetta disoccupazione comprese anche le cooperative che stavano con soci lavoratori un rapporto di forma subordinata e nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento a lavoratori assunti a scopo di somministrazione vanno ad usufruire di un incentivo pari al 20 per cento dell'identità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto quindi si prende il 20 per cento di quello che sarebbe stato dato al lavoratore questa concessione del beneficio è subordinata comunque alla disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis ricordiamo che gli aiuti de minimis sono aiuti che vanno a concorrere in una massima cifra di 200.000 euro quindi bisogna non superare questa cifra per poter avere queste agevolazioni lavoratori anche in CIGS quindi in cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo pieno indeterminato di lavoratori in cassa da almeno tre mesi anche non continuativi dipendenti da imprese beneficiari e dell'intervento di integrazione salariale da almeno sei mesi il datore di lavoro ha diritto a una riduzione dell'aliquota contributiva da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di nove dipendenti ovvero il 10 per cento per un periodo di 12 mesi cosa molto importante perché va ad abbattere di circa il 20 per cento la pressione contributiva l'agevolazione rispetto ai datori di lavoro incluse società cooperative di produzione di lavoro che non hanno in atto sospensioni per cassa integrazione non hanno effettuato riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi e non hanno attuato operazioni di trasferimento di azienda con l'azienda ammessa alla sospensione inoltre il datore di lavoro è riconosciuto al datore di lavoro è riconosciuto un contributo mensile pari al 50 per cento delle indennità di mobilità che sarebbe aspettata al lavoratore per un periodo variabile in base all'età di quest'ultimo adesso andiamo diciamo ai beneficiari dell'assegno di ricollocazione ovvero il bonus occupazione il datore di lavoro che assume ai lavoratori diciamo in cassa integrazione beneficiali di assegno di ricollocazione ha diritto a un esonero del versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico nel limite comunque massimo dell'importo di 4.030 euro su base annua l'incentivo è in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumono o meno la natura dell'imprenditore i vi comprese i datori di lavoro del settore agricolo e spetta altresì per le assunzioni anche a scopo di somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato l'agevolazione spetta per un periodo massimo di 12 mesi con un contratto a termine 18 per un contratto a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato quindi chiaramente se avete già un tempo determinato e lo andate a trasformare avete la possibilità di avere questi sgravi detenuti e internati alle imprese che hanno stipulato l'apposita convenzione con le direzioni degli istituti penitenziari spetta una riduzione del 95 per cento del carico contributivo complessivamente dovuto per l'assunzione questo va per contratti di lavoro subordinato anche a tempo parziale i vi compresi rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e assunzioni effettuate a scopo di somministrazione anche a tempo parziale non inferiore ai 30 giorni il beneficio si applica per 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia già avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro esterno per 24 mesi successivi alla cessazione dello stato definitivo del lavoratore assunto in caso di detenuti internati e che non hanno beneficiato della semilibertà o di lavoro esterno andiamo invece inoltre per le sostituzioni delle lavoratrici madri in congedo le aziende con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione del lavoratore che assumono con contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo hanno diritto a uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro la riduzione è applicabile nella stessa percentuale anche ai premi di assicurazione contro i fortuni quindi anche ovviamente per quanto riguarda l'INAIL passiamo ai disabili i datori di lavoro privati soggetti o meno all'obbligo di assunzione compresi gli enti pubblici che assumono lavoratori disabili hanno diritto a un contributo la cui misura è durata variano in base alla disabilità del lavoratore e alla tipologia contrattuale instaurata fra le parti 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi in caso di assunzione di disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% il 35% per quelli che hanno tra il 67% e il 79% di invalidità il 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per 60 mesi sia l'assunzione a tempo indeterminato ovvero nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato per tutta la durata del rapporto non inferiori ai 12 mesi ultimo ma non meno importante i beneficiari di reddito di cittadinanza l'impresa che assume con contratto a tempo subordinato a tempo pieno un beneficiario di reddito di cittadinanza ha diritto all'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione l'incentivo spetta quindi anche ai datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura dell'imprenditore quindi questo è molto importante perché dà la possibilità anche a coloro che stanno attualmente percependo delle prestazioni a sostegno del reddito di poter essere comunque assunti dando agevolazione al proprio dato di lavoro quindi questo va a incentivare delle nuove assunzioni che in un momento come questo è molto importante perché ricordiamoci che siamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria abbiamo concluso qui sempre su sky canale 821 io vi do appuntamento alla prossima puntata dell'esperto risponde ciao ciao ciao